Ciao a tutti ragazzi ben trovati su WKT Fitness TV Allora parliamo di tricipite, vi ho mostrato già diversi esercizi da fare con l'elastico Questo è un push down classico però con appunto elastico da poter fare con braccio singolo Quindi concentrarsi maggiormente su un arto e poi su quell'altro Io ho trovato un punto di accoraggio come la rete sul campo da paddle Ma va benissimo anche con inferiata, va benissimo con supporto in terrazzo, in giardino Qualsiasi punto dove si può aggrappare l'elastico loop band Se non possiedi loop band ho messo per te in descrizione alcuni link che troverai su Amazon molto pratici Di prodotti comunque utili ed economici da utilizzare Ma andiamo a vedere come eseguire il push down Ma prima ti dico che questo esercizio lo puoi inserire in un percorso di allenamento per le braccia Sostituisce ovviamente non allo stesso modo quello che è un push down fatto anche con i pesi Anche se il carico non è praticamente isotonico ma è un carico auxotonico in quanto cresce con l'aumentare della tensione Se il peso che imparerai ad utilizzare risulterà troppo basso Cerca di poi progressivamente incrementare anche la tensione dell'elastico Scegliendo quelli sempre più spessi Ma di corsa a vederci il tutorial Insomma il primo passo da fare è trovare appunto l'ancoraggio per l'elastico Fissarlo bene e poi iniziare con l'esecuzione Porto completamente in estensione il braccio Se è troppo leggero incremento il carico avvicinando la mano appunto all'ancoraggio Ed eseguo serie da 14-20 ripetizioni Quindi cerca di portare alla massima intensità questo esercizio E se serve incrementare il carico cambiando elastico passando ad una resistenza maggiore Si fa ovviamente il braccio sinistro e il braccio destro Non c'è recupero perché mentre sta lavorando il sinistro il destro sta riposando Ti ho fatto vedere come eseguirlo Ti ho spiegato come non fare recupero in quanto si sta lavorando il destro e il sinistro riposa Quindi un lavoro costante con almeno 4-5 serie da eseguire durante i tuoi allenamenti Puoi inserire questo esercizio in un circuito di allenamento Puoi anche farlo praticamente per allenare soltanto le braccia E comunque se hai dubbi scrivi giù nei commenti Sarò ben lieto di rispondere alle tue e alle vostre curiosità Quindi al prossimo tutorial Ci vediamo su WKT Fitness TV Prima però pollice alto e iscrizione al canale per non perderti nessun aggiornamento